A Montepone Lido le novità di Naturium, presentate da responsabile del centro commerciale Lucio Polito. A grande sorpresa sono tornate le fantastiche creme Food Spring in nuovi due gusti. Caramello salato, che ormai conoscete già e in tanti spettavate, e soprattutto pistacchio. Questa pochi di voi hanno avuto occasione ancora di gustarla, ma li trovate nei nostri tre negozi di Rende di Montepone e Satriano. Vi raccomando, soprattutto pistacchio è un'edizione limitata, non la perdete assolutamente. Ma non finiscono qui le sorprese, perché abbiamo due fantastici nuovi prodotti, sempre della linea Food Spring e ottimi per la colazione. Parliamo delle Breakfast Bowl, due gusti straordinari da utilizzare al mattino, belli da fuori da vedere, ma buonissimi dentro, ve lo assicuro, li ho già provati. Vi aspettiamo quindi nei nostri tre negozi di Rende di Montepone e di Satriano per tutta la linea Food Spring. Da barrette, le creme spalmabili e ancora le proteine, i brownie, la pasta proteica, sostituti dei pasti, e i pancake, sia in versione naturale che vegana. Vi aspettiamo quindi nei nostri tre negozi di Rende di Montepone e di Satriano, in esclusiva nazionale nei nostri negozi Naturium. Vi aspettiamo! Rende, Satriano e Montepone. Rende, Satriano e Montepone.